Il 1889 è un anno fortunato per la letteratura italiana e in modo particolare per il mondo della prosa e della narrativa. Nello stesso anno, infatti, escono due romanzi capolavoro della nostra letteratura, molto diversi fra di loro. Da un lato uno dei capolavori di Giovanni Verga e del verismo italiano, cioè Mastro Don Gesualdo, e dall'altro lato il primo grande capolavoro di Gabriele D'Annunzio, cioè Il Piacere. A prima vista, dicevo, si tratta di due romanzi completamente diversi. Per il romanzo di Verga si parla solitamente di verismo e si dice che il suo protagonista sia un vinto, uno sconfitto, ed è effettivamente così. Nel caso del Piacere di Gabriele D'Annunzio, invece, si parla del protagonista, Andrea Sperelli, come di un esteta e di un vincente. Per quanto riguarda il primo termine, esteta, nulla da eccepire. Per quanto riguarda il secondo, personaggio vincente, invece ci sarebbe molto da obiettare. E probabilmente D'Annunzio stesso ci direbbe di fare così, leggendo con attenzione il finale di questo bellissimo e difficile romanzo. E l'argomento del video di quest'oggi. Leggeremo insieme il terzo ed ultimo capitolo della quarta ed ultima sezione di Il Piacere di Gabriele D'Annunzio. Ecco il testo. La mattina del 20 giugno, lunedì, alle 10, incominciò la pubblica vendita delle tappezzerie e dei mobili appartenuti a sua eccellenza, il ministro plenipotenziario del Guatenala. Il personaggio al quale si fa qui riferimento, sua eccellenza il ministro, è il marito di Maria Ferres, una delle due donne tra le quali il protagonista, Andrea Sperelli, è conteso. Maria simboleggia una donna semplice, pura, esattamente l'opposto dell'altra donna presente nel romanzo, Elena, una sorta di femme fatale, di divoratrice di uomini. Il marito di Maria Ferres, il ministro di cui si parlava, è da poco caduto in disgrazia e di fatto tutti i suoi beni vengono venduti e vanno all'asta, di questo si parla nell'ultimo capitolo. Era una mattina ardente, già l'estate fiammeggiava su Roma. Per la via nazionale correvano su e giù di continuo i tramways, tirati da cavalli che portavano certi strani cappucci bianchi contro il sole. Lunghe file di carri carichi ingombravano la linea delle rotaie. Nella luce cruda, tra le mura coperte da visi multicolori come d'una lebra, gli squilli delle cornette si mescevano allo schiocco delle fruste, agli urli dei carrettieri. Notate alcuni termini presenti in queste ultime frasi. Si parla di carri carichi che ingombrano la strada, si parla di una luce cruda, di mura coperte di avvisi come da una lebra, e così via. Tutte parole dal suono sgradevole. Il fonosimbolismo, lo sapete, è una caratteristica importante di Gabriele D'Annunzio e questi suoni di parole sgradevoli fanno presagire evidentemente qualcosa di negativo. Andrea, Andrea Speregli, il protagonista del romanzo, l'esteta per eccellenza, prima di risolversi, avarcare la soglia di quella casa, vagò per i marciapiedi, all'avventura, lungo tempo, provando una orribile stanchezza. Una stanchezza così vacua e disperata che quasi pareva un bisogno fisico di morire. In realtà la storia del protagonista è la storia non di un vincitore, di un vincente, ma di uno sconfitto, che in amore ha perso due volte. Prima ha perso l'amore di una prima donna, Elena, la femme fatale di cui parlavamo prima, e poi l'amore di una donna più semplice, la seconda, per l'appunto Maria, di cui abbiamo parlato pochi istanti fa. Si sente dunque vuoto, stanco, impotente, tutto gli dà fastidio. Si parla di una orribile stanchezza. Quando vide uscire dalla porta sulla strada un facchino, con un mobile sulle spalle, si risolse, cioè si decise. Entrò, salì le scale rapidamente. Udì dal pianerottolo la voce del perito. Si delibera, cioè si inizia l'asta. Il banco dell'incanto era nella stanza più ampia, nella stanza del Buddha. Intorno si affollavano i compratori. Erano per la maggior parte negozianti, rivenditori di mobili usati, rigattieri, gente bassa. Notate l'espressione, gente bassa. Esattamente l'opposto della gente alta, della nobiltà, della quale fa parte il protagonista Andrea Spirelli. Poiché d'estate mancavano gli amatori, i rigattieri accorrevano, sicuri di ottenere oggetti preziosi a prezzo vile, cioè a basso costo. Un cattivo odore si spandeva nell'aria calda, emanato da quegli uomini impuri. Si delibera. Andrea soffocava. Girò per le altre stanze, ove restavano soltanto le tappezzerie sulle pareti e le tende e le portiere, essendo quasi tutte le suppellettili radunate nel luogo dell'asta. Sebbene premesse un denso tappeto, egli udiva risuonare il suo passo, distintamente, come se le volte fossero piene di echi. Trovò una camera semicircolare. Le mura erano di un rosso profondo, nel quale brillavano disseminati alcuni guizzi d'oro, e davano immagine di un tempio e di un sepolcro. Davano immagine di un rifugio triste e mistico, fatto per pregare e per morire. Attenzione di nuovo al lessico. Tempio, ma anche sepolcro. L'immagine di un rifugio triste e mistico, fatto per pregare, ma anche per morire. Dalle finestre aperte entrava la luce cruda, come una violazione. Apparivano gli alberi della villa Aldobrandini. Egli ritornò nella sala del perito. Sentì di nuovo il lezzo, cioè quella puzza, quell'odore fastidioso. Volgendosi, vide in un angolo la principessa di Ferentino con Barbarella Viti. Le salutò avvicinandosi. Ebbene, Ugenta, che avete comprato? Nulla. Nulla. Io credevo invece che voi aveste comprato tutto. Perché mai? Era una mia idea romantica. La principessa si mise a ridere. Barbarella la imitò. Noi ce ne andiamo. Non è possibile rimanere qui con questo profumo. Addio, Ugenta. Consolatevi. Andrea si accostò al banco. Il perito lo riconobbe. Desidera qualche cosa, il signor conte? Egli rispose, vedrò. La vendita procedeva rapidamente. Egli guardava intorno a sé le facce dei rigattieri. Si sentiva toccare da quei gomiti, da quei piedi. Si sentiva sfiorare da quegli aliti. La nausea gli chiusa la gola. Uno, due, tre. Il colpo di martello gli suonava sul cuore. Gli dava un urto doloroso alle tempie. Vedete, tutto dà fastidio ad andare a Sperelli. Gli odori gli sembrano degli odori sgradevoli. I rumori, i suoni delle voci, delle persone accorse, tutto gli dà fastidio. Egli comprò il Buddha, un grande armario, qualche maiolica, qualche stoffa. A un certo punto udì come un suono di voci e di risa femminili. Un fruscio di vesti femminili verso l'uscio. Si volse. Vide entrare Galeazzo Secinaro con la marchesa di Mount Edgecamb e poi la contessa di Lucoli, Gino Bomminaco, Giovanella Daddi. Quei gentiluomini e quelle dame parlavano e ridevano forte. Egli cercò di nascondersi, di rimpicciolirsi tra la folla che assediava il banco. Tremava al pensiero di essere scoperto. Ormai Andrea Sperelli, che fa parte di quella classe sociale dei nobili di cui si parlava un attimo fa, non ha più piacere di stare con loro. Tutto gli dà fastidio, si vergogna di ciò che gli è successo negli ultimi giorni, della fine della sua ennesima storia d'amore, e quindi non vuole avere più contatti con nessuno. Le voci, le risa, gli giungevano di sopra le fronti sudate della folla, nel calore soffocante. Per ventura, dopo alcuni minuti, i gai visitatori se ne andarono. Egli si aprì un barco tra i corpi agglomerati, vincendo il ribrezzo, facendo uno sforzo enorme per non venire meno, cioè per non svenire. Aveva la sensazione in bocca come di un sapore indicibilmente amaro e nauseoso che gli montasse su dal dissolvimento del suo cuore. Gli pareva ad escire dai contatti di tutti quegli sconosciuti come infetto di mali oscuri e immedicabili. La tortura fisica e l'angoscia morale si mescolavano. Curiosa l'espressione che abbiamo appena letto, ve la ripropongo. Aveva come l'impressione di uscire dal contatto di tutte quelle persone sconosciute come infetto, infettato, da mali, da un virus, da un morbo oscuro e immedicabile. Lui sta proiettando all'esterno, fuori di sé, il virus, il malessere che colpisce in realtà il suo animo, il suo spirito. E lui ad essere malato e tormentato, non le persone che stanno intorno a lui. La tortura fisica e l'angoscia morale si mescolavano. Quando egli fu nella strada, alla luce cruda, ebbe un po' di vertigine. Con un passo mal sicuro si mise in cerca di una carrozza. La trovò sulla piazza del Quirinale. Si fece condurre al palazzo Zuccari, ma verso sera una invincibile smania lo invase, di rivedere le stanze disabitate. Salì di nuovo quelle scale, entrò col pretesto di chiedere se gli avevano i facchini portato i mobili al palazzo. Un uomo rispose, li portano proprio in questo momento, e là dovrebbe averli incontrati, signor Conte. Nelle stanze non rimaneva quasi più nulla. Dalle finestre prive di tende entrava lo splendore rossastro del tramonto. Entravano tutti gli strepiti della via sottoposta. Alcuni uomini staccavano ancora qualche tappezzeria dalle pareti, scoprendo il parato di carta a fiorami volgari, su cui erano visibili qua e là i buchi e gli strappi. Alcuni altri toglievano i tappeti e li arrotolavano, suscitando un polverio denso che riluceva nei raggi. Un di costoro canticchiava una canzone impudica, e il polverio misto al fumo delle pipe si levava sino al soffitto. Questi inservienti stanno sgomberando una casa, che ormai quasi completamente vuota, preva dei tappeti, delle tappezzerie, dei mobili. È una sorta di descrizione tutta al negativo, quella che abbiamo appena finito di leggere, che fa contrasto con le tantissime stupende descrizioni di case, di vestiti, di luoghi bellissimi, di cui è pieno questo romanzo, Il piacere di D'Annunzio. Dunque sembra quasi che il finale sia in contraddizione con tutto ciò che è stato detto prima. Prima l'estetismo, la bellezza, il lusso, lo sfarzo, lo spreco delle case stupende, bellissime, piene di tappeti, di mobili preziosi, ed ora l'ultima casa che si descrive, nell'ultimo capitolo, è una casa buia, con poca luce, tutt'altro che sfarzosa, ma deserta, disabitata, dove tutto è stato portato via. Non certo un'immagine di vita, ma un'immagine di morte, che è perfettamente consona allo stato d'animo del personaggio nella parte finale del romanzo. A essere morto nell'animo, a essere privo di ogni istinto vitale, è proprio quell'esteta Andrea Sperelli che all'inizio era giovane, forte e pieno di vita. Andrea fuggì. Nella piazza del Quirinale, dinnanzi alla reggia, suonava una fanfara. Le larghe onde di quella musica metallica si propagavano per l'incendio dell'aria. L'obelisco, la fontana, i colossi, grandeggiavano in mezzo al rossore e si incorporavano come penetrati di una fiamma impalpabile. Roma immensa, dominata da una battaglia di nuvoli, pareva illuminare il cielo. La bellezza in realtà esiste ancora, oggi diremmo la grande bellezza di Roma, ma la bellezza è come scomparsa, agli occhi di un protagonista come invecchiato, triste, depresso, chiuso in se stesso. Andrea fuggì, quasi folle. Prese la via del Quirinale, discese per le quattro fontane, rasentò i cancelli del palazzo Barberini che mandava dalle vetrate Baleni. Giunse al palazzo Zuccari, che è la sua residenza romana. I facchini scaricavano i mobili da un carretto, vociando. Alcuni di costoro portavano già l'armario su per la scala, faticosamente. Notate questo avverbio, con molta fatica, faticosamente. Si parla di persone umili, semplici, degli strati sociali più bassi, dei facchini, dei manovali. Questi facchini stanno portando a Palazzo Zuccari, residenza del protagonista di Andrea Sperelli, questo armadio che ha comprato poco prima all'asta. Ma lo fanno con fatica e ingombrano il passaggio, ingombrano le scale. E notate l'ultima frase, il vero e proprio finale del piacere. Egli, cioè Andrea Sperelli, entrò in casa sua. Come l'armario occupava tutta la larghezza, cioè siccome l'armadio, il mobile appena acquistato, occupava l'intera larghezza delle scale, egli non potè passare oltre. Seguì, piano piano, di gradino in gradino, fin dentro la casa. Si chiude con un'immagine piena di ostacoli, un'immagine di lentezza. Lui che un passo alla volta, piano piano, è costretto a fare i gradini uno per uno, seguendo questo mobile che gli ostroisce il percorso. Ed è in fondo un'immagine di morte, quella con cui si chiude il piacere. Perché questo armadio, così pesante, nella forma, in fondo, ricorda una bara. Sembra una scena di funerale, con una persona, in questo caso il protagonista, Andrea Sperelli, che sta seguendo un armadio che in fondo simboleggia la sua futura morte. Come vedete, dunque, un finale, direi quasi a sorpresa, all'interno del piacere di D'Annunzio. Il libro, che solitamente viene descritto come il trionfo dell'estetismo nella letteratura italiana, è in fondo molte cose. Certo, il protagonista è un esteta, ma se leggiamo con attenzione già anche le prime pagine del romanzo, tra le righe emerge chiaramente un dettaglio. Che in fondo, per lui, la ricerca della bellezza, dell'arte, del collezionismo, delle belle donne, del lusso, è semplicemente un modo per mettere a tacere quell'ansia, quel senso di decadenza, che prova da un po' di tempo dentro di sé. Dunque, per paradosso, il piacere è due cose al tempo stesso. E da un lato una apparente, ma forse solo apparente, esaltazione della figura dell'esteta e del concetto di estetismo, e dall'altro è anche, e a mio avviso forse soprattutto, la messa in crisi di questo stesso concetto. E in fondo, questa scena di morte, con cui il romanzo si conclude, è la dimostrazione del fatto che il protagonista di questo libro non è un vincente, ma è un vinto, lo stesso termine che paradossalmente negli stessi anni Giovanni Vergo utilizzava per i protagonisti dei propri romanzi, I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo. Siamo partiti oggi da un'antitesi, mettendo Verga ed Annunzio su due piani completamente diversi. Concludiamo dicendo che, in fondo, i protagonisti dei romanzi di questi due grandi scrittori, i romanzi usciti nello stesso anno, Mastro Don Gesualdo da una parte e Andrea Sperilli dall'altro, sono in fondo entrambi dei vinti e degli sconfitti. Vi ringrazio molto per l'attenzione a questo video, spero di essere stato utile, se è stato così lasciate un like prima di andare via, e se non l'avete ancora fatto ricordatevi di iscrivervi al mio canale YouTube. Grazie ancora molto per l'attenzione e ci vediamo per i prossimi video. A presto!